Come dire, applicazione, quindi un grazie a tutti. C'è stata una grande partecipazione alla parte di questo, o prima e continuamente, o effettivamente e poi professionalmente, nel senso che abbiamo, sono riuscito a fare una progettiva di Domenico, non Domenico, di Vittuola, di Vittuola, di Vittuola, e di altri, a quello che vi fa l'idea. Grazie. Abbiamo fatto davanti due esperate, che vi sono andate meglio, anche dal punto di vista, spesso, del canto e della musica. Abbiamo poi un po' anche dal resto della scuola, un po' sui materatti, un po' di cinque classi, per cui la prima è, lo ricordo, e la tua, il vento. Viva la prima è! Viva la prima è! E poi, Domenico, la cannaia, la cannaia, la cannaia di Sala, diventa la nostra società di cuore, la cannaia, 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 la il mio cuore è suo e io esso di tutti i quattro anni noi tutti sosteniamo l'ordine e quello che apposta è una grande incredibile è possibile come una persona che ha una grande misericordia o delle carenze, ma è una scuola che si può imparare a presto del mio sogno questa che io vi ho chiesto di un sede che ho fatto è una grande misericordia e questo è un po' qui Io lo metto su di mio pezzo e un bacio per me. Per questo gruppo, perché no? Alla zia, alla musica di Domenico, precede che sarà ancora lavorata su Domenico in questa bella prima edizione di Silvia Domenico. Questa domanda è che riscaldiamo con questo gruppo e alla prossima di Domenico. E poi da ogni discorso, da ogni discorso, da ogni discorso che può attringere a Domenico a Domenico, abbiamo una persona che sicuramente è un grande territorio, un riscaldino. Io ho un'idea di Domenico. Non sono di una presa. Però io ho un'idea di mezzo. Adesso, di nuovo, sicuramente, sarà in carica nei tempi. Questi i prodotti. Grazie, grazie a tutti voi. Quello che ho ringraziato. Vi è dato l'opera. Sostimiliamo oggi la menza. Vi mostrano la selezione come da noi che possiamo allargare, a prescita dall'età, a prescita dai tuoi. Noi sono rimasta poco aperta, vedendo un ventesimo, un traventesimo di quello che abbiamo avuto iniziato dopo tempo, quindi quello sogno era un po' quasi naturalmente, prima sono orgogliosissimo di andare via, vedendo, all'albergarle, all'albergarle, tanti talenti e dare la possibilità che questi talenti si possano esprimere. Qui abbiamo un parco che è meraviglioso, veramente un dono che è stato dato alla città, che è la città deve sapere mantenere, un parco che deve essere utilizzato sempre di più, di più, di più, di questi eventi per promuovere tante occasioni di conto di sviluppo, per dare ai ragazzi e ai ragazzini il quale momento di ancora innamorarsi del talento in cui si scuola, che fa sì che questo talento venne veramente verso il servizio della comunità, della nostra terra e della nostra carattere e di mandare sempre filando l'immagine. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.